Sì, ciao ragazzi, quando vedete con questa bandana spesso è perché faccio escursioni oggi vi porto in un posto molto carino non potrò fare foto perché passerò attraverso non posso far foto, il minimo è questo cioè non posso far video farò foto, farò foto e voi vedrete le foto vi porto a vedere la casa di Cenerentola qui a Marileva non ci credete? Guardate le foto bene, spero che queste foto che ho fatto vi siano piaciute avete visto che c'è una malga che è inutilizzata in questo momento però mi piacciono tantissimo le malghe quindi l'ho comunque fotografata e niente, spero che questi video vi stiano piacendo perché vi sto bombardando sto qui fino al 22 quindi fino al 22 vi porterò qualche materiale dalla Val di Sole a livello visivo spero anche dopo perché magari se faccio qualcosa di interessante non riesco a caricarli in continuo magari le carico anche dopo anche se torno a casa comunque staremo a vedere intanto al prossimo video